Per qualche mese, egli venne costantemente due volte al giorno dalla moglie senza mai pronunziare il nome della figliuola, né vederla o fare ad essa allusione. Lo stato dell'inferma peggiorava, ma nulla commosse mai il vignarolo impassibile, freddo, duro come un blocco di granito. Continuò ad andare a venire secondo le proprie abitudini, non ricorse più alla balbuzia e parlò anche meno, e fu più crudele che mai negli affari. Qualcosa deve essere accaduto dai Grandè, dicevano Crusciottiani e Grassinisti, che diamine ci sarà stato in casa Grandè, si chiedeva per tutta Somur. Eugénie andava in chiesa con la domestica, e se la signora de Grassin le rivolgeva qualche domanda, se la sbrigava con qualche risposta evasiva sulle generali. Tuttavia, in capo a due mesi, fu impossibile nascondere agli intimi il segreto della sua reclusione, perché alla fine vennero meno i pretesti per giustificare la continua assenza di lei. Allora, in un batter d'occhio per la città intera, chissà in qual modo si sparse la notizia che, dal primo dell'anno, la signorina Grandè era tenuta dal padre chiusa in camera, pane e acqua e senza fuoco, e che la domestica le portava di notte qualche cibo, e che, solo durante l'assenza del vecchio, poteva vedere ed assistere la madre. Non si può dire con quanta severità si giudicasse la condotta dell'Avaro e come gli si scagliassero contro. Mentre passava, se lo mostravano a dito, mormorando, ed allorché la fanciulla scendeva giù per la via tortuosa insieme a Nanon, tutti si affacciavano per guardare curiosamente la ricca erede ed il suo volto soffuso di mestizia e dolcezza angelica. Ma lei non pesavano quelle angherie, poiché le restava da contemplare il mappamondo, il piccolo banco, il giardino e il pezzo di muro, e sulle labbra sentiva ancora la soavità dei baci. Per un pezzo nulla seppe delle ciarle, e religiosa e pura innanzi a Dio trovò nella propria coscienza e nell'amore la forza di soppiantare lo sdegno e la vendetta paterna. Ma ad un intimo profondo affanno era oppressa per il continuo deperire della madre, e spesso acerbamente si rimproverava di essere stata causa involontaria della lenta malattia che l'aveva colpita. Tali rimorsi che la buona donna cercava di distruggere la vincolavano sempre più stretta alla passione dell'anima, ed ogni mattina, quando Grandè era fuori, correva al capezzale dell'inferma, ovè la domestica le portava la colazione. Ma la povera Eugénie, con un muto gesto di infinita tristezza, le indicava quel viso disfatto e piangeva, non osando parlare del cugino, era sempre la signora Grandè la prima a chiedere. «Ma dov'è Egli? Perché non scrive?» La madre e la figlia ignoravano completamente le distanze. «Ci basti il pensiero, mamma, e non se ne parli, voi soffrite e bisogna badare a voi innanzitutto». Tutto era lui. Figliuola, ripeteva l'altra, «Io non rimpiango certo la vita, è una grazia speciale del Signore questa di farmi guardar lieta in faccia alla fine delle miserie». Dolci e pie parole uscirono sempre dalla sua bocca e quando il marito all'ora della colazione veniva a passeggiare entro la stanza, ella non si stancò mai i primi mesi di ripetergli i medesimi discorsi con rassegnata sua vita ad Angelo, ma con la fermezza di chi trae dall'avvicinarsi della morte il coraggio mancato nella vita. «Grazie, Signore, dell'interesse che dimostrate per la mia salute, ma, se volete alleviarmi i dolori e rendere meno amari i miei ultimi istanti, perdonate a nostra figlia. Mostratevi cristiano, sposo e padre». Non appena ella cominciava così, grande sedeva accanto al letto e restava impassibile, come chi vedendo approssimarsi un acquazzone si mette tranquillamente al riparo nell'atrio d'una casa. Alle preghiere più tenere e commoventi rispondeva freddo «Tu sei palliduccia oggi, moglie mia». Nella fronte immobile e nelle labbra strette pareva dimostrare l'oblio completo della figlia, e nemmeno avevano potenza di muoverlo le lacrime che scorrevano per le livide guance della moglie alle sue risposte sempre vaghe ed eguali. «Dio vi perdoni come vi perdono io», concludeva la poverina, «però un giorno avrete gran bisogno di indulgenze». Dopo quella malattia, egli non aveva più osato ricorrere al suo terribile «ta-ta-ta-ta», ma non per questo l'ingenito dispotismo aveva ceduto di fronte alla soavità di quella donna angelica, la cui bruttezza veniva sempre più sfumando nel riflesso delle doti morali che sembravano fiorirle il viso. Poteva dirsi oramai come spiritualizzata, come purificata dal genio della preghiera che ne attenuava i lineamenti grossolani in un misterioso splendore, e la vista di quella metamorfosi intima, di quell'improvviso rifulgere dell'anima nobile e pura al di sopra della carne fragile attraverso le prove dolorose che la consumavano, finì con esercitare una lieve influenza anche sul vecchio bottaio, benché il suo carattere rimanesse di bronzo. Tacque in lui la parola sdegnosa e vi successe un silenzio costante dietro cui volle tutelare l'alta dignità di padre. L'opinione pubblica intanto apertamente lo condannava, e non pochi frizzi giungevano sul mercato all'orecchio della Fida Nanon che, per affetto alla famiglia, lo difendeva. Non si diventa tutti irascibili con l'invecchiare, così accade di lui. Tenete un po' più a freno quelle lingue bugiarde, la signorina sta come una reginetta. È sola, è bene, le piace così, d'altra parte avranno i loro buoni motivi i miei padroni. Sul finir della primavera la signora grande, rosa dal dolore più che dal male e veduta inutile ogni preghiera, si è perse con i crusciò. Tenere a pane acqua una ragazza di 23 anni, gridò il presidente, ma ciò costituisce appunto le ingiustizie e sevizi, ed ella può protestare tanto. Via, nipote, disse il notaio, fate a meno del vostro gergo da tribunale, me ne incarico io, signora, e vi prometto che domani stesso sarà finita la reclusione. Udendo che parlavano di lei, Eugénie venne in camera e si rivolse loro con atto di nobile fierezza. Vi pregherei, signori, di non occuparvi di nulla, poiché il babbo è padrone in casa propria e finché starò con lui, lo obbedirò. Non intendo che altri fuori di Dio si permetta di giudicare la sua condotta. Chiedo alla vostra amicizia il silenzio più assoluto. Vi son grata dell'interesse, ma vi sarò più grata se cercherete di soffocare le chiacchiere offensive della città. Ha ragione, approvò la madre. Il mezzo migliore per tagliar corto a tali charle è quello di ottenervi la libertà, signorina, disse rispettosamente il vecchio notaio, colpito dalla triste e delicata bellezza di Eugénie. Sì, figliuola, lascia fare al signor Cruchot che ci garantisce il buon successo e sa da qual verso prendere tuo padre. Se vuoi vedermi contenta nei pochi giorni che mi restano ancora, bisogna che a qualunque costo ti riconcili con lui. Il giorno seguente, secondo l'abitudine presa dopo la reclusione della ragazza, Grande faceva i soliti giri nel giardinetto nel momento in cui ella si pettinava. Nascosto dietro il tronco del vecchio noce, mirava per qualche tempo i lunghi capelli di lei ed era combattuto fra la tenacia del caratter e il desiderio vivo di stringere la figlia fra le braccia. Spesso si lasciava cadere sul banco di legno tarlato, ove i due giovani si erano scambiato il giuramento di eterno amore, Eugénie lo guardava di sfuggita dentro lo specchio e se gli riprendeva a passeggiare veniva alla finestra fermandovi sia a contemplare il pezzo di muro da cui sbocciavano fiori graziosissimi e dai cui crepacci sporgevano capel venere, con volvoli e una pianta grassa gialla e bianca, un sedum abbondante nei vigneti di Somur e Attur. Erano le prime ore d'un bel giorno di giugno quando Mastro Crusciò comparve davanti al vignarolo che se ne stava seduto sul banco a riguardare la fanciulla. «In che vi posso servire?» Mastro Crusciò chiese Grande vedendo il notaio. «Dovrei parlarvi d'affari». «Ah, ah, vi è forse capitato un po' d'oro da cambiare con gli scudi?» «No, no, non si tratta di denaro ma di eugenie, tutti ci parlano dei fatti vostri». «Di che si mischiano? Ogni carbonaio è padrone in casa propria. Certamente ognuno è padrone anche di ammazzarsi o quel che è peggio di gettare dalla finestra le proprie ricchezze». «Come? Come? Mi sembra chiaro, vostra moglie è malata assai, amico mio. Sarebbe bene che consultaste il signor Bergeret, poiché ella corre pericolo di vita, e se muore senza le cure convenienti, non so quanto possiate star tranquillo». «Ta-ta-ta-ta! Sapete ciò che a mia moglie questi maledetti medici non appena mettono il piede in casa ve li trovate addosso cinque o sei volte al giorno». «Insomma, grande, fate pure come vi piace, ma per l'amicizia sincera che nutro verso di voi e per l'interesse che prendo alle vostre cose mi son creduto in dovere di parlarvi. Del resto qualunque cosa accada sapete ben regolarvi, è una faccenda forse più grave quella che mi conduce, perché in fondo vostra moglie vi è utile e la sua salute perciò deve premervi, ma se quella poverina muore come vi troverete di fronte alla figlia? Data la comunione di beni fra voi coniugi dovrete fare i conti con Eugénie, vostra figlia sarà in diritto di reclamare la sua parte e di far vendere foafon, lei succede a sua madre dalla quale voi non potete ereditare». Simili a un fulmine saettarono queste parole sul vecchio avaro che non era tanto forte in legge quanto in commercio e non aveva mai pensato alla probabilità di una licitazione. «Quindi», concluse il notaio, «vi consiglierei di trattarla con amorevolezza». «Ma sapete che m'ha fatto Crusciò?» «Cosa?» domandò subito l'altro. «Ha dato via il suo oro». «Ebbene, non era suo?» «E mi dicono tutti così», esclamò Grande lasciando cadere le braccia con un gesto tragico. «Ma via», riprese Crusciò, «creare ostacoli per una miseria alle concessioni che dovrete chiederle alla morta della madre». «Ah, vi sembra una miseria? A voi sei mila franchi?» «Sentite, amico, se l'Eugénie richiede l'inventario e la divisione dei beni, quanto credete che si spenda». «Quanto?» «Due o trecentomila franchi e forse quattrocentomila», mentre d'accordo «Per il falcetto di mio padre!» gridò il vecchio illividendo. «Voglio pensarci, Crusciò, voglio pensarci!» Vi fu un breve silenzio che parve un istante d'agonia, poi grande riprese con voce triste e solenne. «Oh, come dura la vita! E quante angosce vi sono sparse! Voi non mi ingannate, e Crusciò, giuratemi sull'onor vostro che quanto mi avete detto ha il suo fondamento nella legge! Mostratemi il codice! Sì, voglio leggere il codice! Ma, caro mio, vi pare che non sappia il mio mestiere?» «Sicché è vero, e sarò spogliato, tradito, ucciso, divorato da mia figlia! È l'erede di sua madre!» «Ecco a che servono i figli!» «Ah, ma io voglio bene a mia moglie, ed essa fortunatamente è robusta, una alla Bertellier! Sarà molto se vive un mese!» L'Avaro si diede un pugno in fronte, mosse alcuni passi, tornò accanto al notaio, e con uno sguardo terribile gli chiese «Come fare allora? V'è un rimedio nella rinuncia pure semplice di Eugénie alla successione materna. Non vorrete certo diseredarla, non è vero, e per ottenere questa rinuncia non bisogna indispettirla. Parlandovi così vado contro al mio interesse, vecchio mio, infatti qual compito ho mai se non procedere a liquidazioni, inventari, vendite e divisioni?» «Si vedrà, si vedrà! Passiamo ad altro intanto, perché mi si agitano gli intestini. Vi è capitato dell'oro? No, ma conservo una diecina di Luigi antichi e ve li darò. Pensate a far pace con la ragazza, tutta Somur, credetemi, vi sta contro.» «Canaglie!» «Consolatevi, la rendita è salita a 99.» «A 99, Crusciò?» «Sì!» «99», ripete il buon uomo accompagnando il notaio alla porta di strada. Poi, non potendo star fermo per l'interna agitazione, salì dalla moglie e le disse «Oggi potrei passare la giornata con tua figlia, io vado a Frafond. È l'anniversario del nostro matrimonio, oggi mia buona moglie voglio darti dieci scudi per il tuo altare del Corpus Domini. Era un pezzo che ne desideravi uno. Divertitevi, state allegre ed in buona salute. Viva l'allegria!» Grandè gettò dieci scudi da sei franchi sul letto della moglie e la baciò in fronte. «Stai meglio, eh, buona donna, non è vero?» «Come volete ricevere in casa il Dio del perdono se conservate rancore contro la figliuola?» mormorò tutta commossa la donna. «Ta, ta, ta, ta!» soggiunse Grandè con voce quasi carezzevole. «Anche a questo penseremo!» «Bontà di Dio, egenie!» esclamò la signora Grandè, rossa di gioia. «Vieni ad abbracciare il babbo! Ti perdona!» Ma il bottaio era già fuori e trottava svelto verso le sue tenute, cercando di mettere un po' d'ordine nella confusione delle sue idee. Aveva compito da poco i settantasei anni e la sua avarizia era sempre cresciuta con l'età, come succede di ogni passione ingenita nell'individuo. Per un caso comune agli ambiziosi, agli avari e a tutti coloro i quali concentrano la vita in un sol pensiero, questo era degenerato in mania. E la sua mania era di veder l'oro, di toccarlo, di possederlo. Con l'avarizia era cresciuto anche il sentimento del dispotismo e considerava una cosa contro natura la probabilità che la morte della moglie lo privasse di una parte dei suoi beni. Palesare alla figliuola il valore del patrimonio o permettere un inventario dei mobili e immobili per licitarli. E qui varrebbe assegarsi la gola, dissegli ad alta voce in mezzo a una vigna di cui osservava le viti. Finalmente prese una risoluzione e tornò a Saumur all'ora del pranzo, convinto della necessità di piegare innanzi ad Eugenie, di carezzarla, di ammancirla, affinché gli fosse dato di morire da re con l'impero dei suoi milioni sino all'ultimo respiro. Avendo per caso la chiave del portone, entrò inavvertito e mentre saliva a cauto come un vecchio lupo verso la stanza della moglie, le sue donne contemplavano i lineamenti di Charles nel ritratto di sua madre. Proprio la fronte e la bocca sua, diceva Eugenie nel momento in cui comparve il vignarolo, ma allorché la signora Grandello vide e sorprese lo sguardo indefinibile che gli gettò sull'oro della scatola, gridò Dio, abbi pietà di noi. L'avaro si scagliò sul prezioso getto come una tigre su un bimbo addormentato. Cos'è questo? chiese portandolo in fretta vicino alla finestra. Oro, ottimo oro, e in abbondanza peserà almeno due libre. Aha, Charles te l'ha dato in cambio delle tue belle monete e perché non dirmelo? È un buon affare, figlietta, e ti riconosco per sangue mio. Un tuo cugino questo, vero? Sì, babbo, non è roba mia. Quel mobile è un sacro deposito. Ta ta ta! Non ha preso il denaro? Bisogna compensarsene. Babbo! Il vecchio posò la scatola su una sedia per andare in cerca di un coltello, ed Eugenie fece una mossa per riprenderla. L'altro fu pronto a respingerla con tal violenza che la cadde sul letto della madre. Signore, signore, e gridò l'inferma alzandosi a metà. Grande, con il coltello, si accingeva a staccare le placche d'oro. Babbo, supplicò la ragazza in ginocchio a mani giunte. Babbo, in nome dei santi e della vergine, in nome di Cristo morto sulla croce, per amore della vostra salvezza eterna, babbo, per amor mio, non lo toccate. Quell'oggetto non è né vostro né mio. Esso è di un parente disgraziato che me lo diede in custodia. Io devo renderglielo intatto. E se è un deposito, perché lo contemplavi. Vedere non è forse peggio che toccare? Babbo, non lo toccate. O per me il disonore, mi capite? Grazie, signore, aggiunse la madre. Babbo, ripete ancora Genì, con voce così forte che la domestica accorse spaventata. Poi, visto a portata della sua mano, un coltello se ne impadronì. Ebbene, chiese Grande con un sorriso incerto. Ah, voi mi uccidete, signore, voi mi uccidete, continuava la moglie. Babbo, se una sola particella di quell'oro vi è intoccata, io mi colpisco senz'altro. Come avete ridotto mia madre quasi a morte, ammazzate anche vostra figlia. Avanti, ferita per ferita. Il vecchio ristette irresoluto. E ne saresti capace? Sì, signore, gli disse la moglie. Lo farà, lo farà, gridona no. Siate almeno ragionevoli una volta in vita vostra. Egli guardava sempre incerto l'oro e la figliuola. In quel punto la signora Grande cadde svenuta. Vedete, vedete, la padrona muore. Prendi, figliuola, prendi. È inutile bisticciarsi per un cofanetto. Prendi, gridò vivacemente il bottaio gettando la satola sul letto. E tu corri, Nanon, corri dal signor Bergerin. Via, cara, aggiunse baciando la mano fredda della moglie. Non è nulla, via. Abbiamo fatto pace, non è vero, figlietta? Non è più pan secco. Mangerai quel che ti pare. Ah, apri gli occhi. Dunque su, mamma, mammina, mammetta, su, vedi? Io abbraccio Egenie. E se vuole sposare suo cugino, lo sposi e gli conservi pure la scatola. Ma voglio che tu viva a lungo, moglie mia. Muoviti un po', senti, ti regalerò il più bell'altare che si sia mai visto a Somur. Perché trattarci così? Disse con voce fioca la signora Grandè. Non lo faccio più, non lo faccio più, vedrai. E corse nel suo studiolo. Tornò con una manciata di Luigi che sparse sul letto. Ecco, Egenie, ecco, moglie mia, ecco, per voi. Allegra mia cara, pensa a star bene. Non ti mancherà nulla. E ad Eugenie, nemmeno. Qui son cento Luigi d'oro per lei. Non li regalerai mica anche questi, eh? Le due donne si guardarono meravigliate. Riprendeteli, babbo. A noi basta la benevolenza vostra. È proprio così, disse gli intascando le monete. Siamo d'accordo e scenderemo tutti a pranzo in sala. E giocheremo a tombola ogni sera a due soldi la posta. E vi diverrete, eh, moglie mia? Ahimè, vorrei ben farlo se vi piace, ma non ho la forza di muovermi. Povera donna, tu non sai quant'io ti voglia bene. Ed anche a te, piccina, continuò abbracciando la ragazza. Oh, come dolce baciare la propria figlia dopo un lite. Ecco, vedi tu, mammina, sembriamo una persona sola. Ora va a riporre quella scatola. Non te ne parlerò più, non temere. Giunse poco dopo il signor Bergerin, il primo medico di Saumur, e disse chiaro a Grandet che la salute della moglie era grave e non lasciava luogo a speranze, ma che con una calma perfetta di spirito e con assidue cure si sarebbe potuto arrivare verso la fine dell'autunno. Ci vorrà molto denaro? Chiese il vecchio. Occorreranno medicine? Poche medicine e molta cura, rispose il vecchio con un lieve sorriso. Insomma, signor Bergerin, vi credo un uomo onore e mi affido a voi. Venite quando vi sembrerà utile e cercate di guarire la mia buona moglie senza che sembri, vedete, io le voglio un bene dell'anima e che non sono espansivo, ma entrate in casa la disgrazia col orte di mio fratello. Sto spendendo a Parigi i cifre considerevoli la pupilla degli occhi e non si accenna a finire. Arrivederci, signore, e se può salvarsi questa povera donna, mettete in opera ogni mezzo, quando anche se dovessero spendere cento o duecento franchi. Nonostante i vivi auguri di Grandet per la salute della moglie di cui temeva come la propria morte e l'apertura della successione, nonostante la sua compiacenza per i minimi desideri di lei, nonostante le cose prodigatele da Eugénie, l'inferma andò rapida verso la fine. Di giorno in giorno deperiva e si faceva fragile come le foglie secche in autunno, sottile, diafana. I suoi ultimi istanti furono degni della vita sublimamente cristiana che aveva vissuto. Le intime doti di quell'anima, la pazienza angelica e l'affetto immenso per la figliuola, rifulsero, specialmente nell'ottobre del 1822. Ella si spense serena e tranquilla, senza un lamento. Agnello immacolato volava diritto al cielo e l'unico rimpianto che avesse era per la dolce compagna della sua fredda esistenza. Per lei sola gli sguardi estremi della genitrice parvero per dire disgrazie. La morente tremava nel lasciar quella pecorella bianca come lei, sola in mezzo al mondo egoista che voleva strapparle il suo vello, i suoi tesori. Figliuola mia, le disse prima di ispirare, conoscerai un giorno che soltanto nel Signore è la felicità.